Se comprendiamo dove stiamo sbagliando è il tema del video di oggi. Ti invito a seguirmi. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube utilizzando il pulsante iscriviti che trovi qui sotto e dopo clicca sulla campanellina per ricevere ogni notifica relativa alla pubblicazione dei nostri video. Sempre tratto da guarisci te stesso. Se comprendiamo dove stiamo sbagliando, cosa di cui spesso non ci rendiamo conto, e se compiremo uno sforzo serio per correggerci, arriveremo ad avere non solo una vita di gioia e di pace, ma anche ad essere in buona salute. Oggi ho scelto questo brevissimo stralcio tratto da guarisci te stesso perché voglio portarti un ragionamento. Un ragionamento su cui raramente ci soffermiamo. Quando pensiamo che stiamo sbagliando, la maggior parte di noi pensa che l'errore implicito sia qualcosa di cattivo nei confronti del mondo. Io tratto male l'altro, mi comporto male nei confronti dell'altro e questo si pensa essere un errore. Raramente noi facciamo un ragionamento inverso, però soffermiamoci un attimo a pensare. Dei 38 fiori di Bach pensiamo a Larch. L'errore di Larch qual è? La mancanza di fiducia nelle proprie possibilità. L'errore di Pine qual è? La mancanza della gioia del fare le cose e quindi il bisogno di dover continuare a compensare questa mancanza dicendo non ho fatto abbastanza, devo fare di più. L'errore di Hawk qual è? È quello di essere troppo rigido nei suoi doveri e quindi di non riuscire mai a rilassarsi e a godersi la vita. Perché ho citato questi tre fiori tra i 38? Sono i primi che mi sono venuti in mente per fare questo tipo di ragionamento. Se io, come errore, anziché pensare faccio di male qualcosa di male a te, come errore penso che non mi gratifico abbastanza, questo è pur sempre un errore. Ed è l'errore che va a sanare Pine. Se io non mi fido abbastanza delle mie qualità, qual è il mio errore? Il mio errore è che io non mi valuto correttamente. Se io valgo 100 e mi valuto 3, quello è il mio errore. Quindi l'errore non è necessariamente qualcosa che noi siamo spinti a pensare che l'errore sia questo. L'errore non è necessariamente qualcosa che noi facciamo di sbagliato nei confronti del mondo. Spesso invece l'errore è un errore della percezione di noi e quindi guarire da questo errore, come dice Bach, arriveremo ad avere non solo una vita di gioia e di pace, ma anche a essere in buona salute, quello che dobbiamo comprendere di questa dimensione è che se io valgo 100 e mi valuto 3, il mio errore mi impedisce di arrivare alla gioia e alla pace e ad avere una vita di salute. Questo errore è un errore dentro al pensiero relativo alla valutazione di me. Quindi soffermiamoci un po' di più ad ascoltare queste dimensioni. Se io assumo un fiore come l'arche perché sento che ne ho bisogno, allora quale sarà il mio errore? Dove dovrò andare a guardare per capire come correggere questo errore? Dovrò guardare dentro e dovrò guardare che cosa io non faccio di giusto nei miei confronti per stare bene. Sono Max Volpi e sono il fondatore del sito ifioridibach.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali. Se vuoi approfondire i fioridibach e ricevere tutti i contenuti gratuiti riservati ai nostri iscritti, oltre a un ebook da scaricare di 140 pagine sui fiori, clicca il link che trovi qui sotto nelle note. Grazie, ciao!